Buonasera a tutti, Hacking Team, Big Data e social media quando la notizia passa quasi inosservata è il titolo che abbiamo scelto per il nostro intervento, infatti questa è un'analisi che nasce da una comune riflessione mia e di Renato, che nasceva dal fatto che una notizia che ha avuto una portata mondiale come l'attacco all'Hacking Team abbia sì avuto un impatto mediatico planetario ma non altrettanto in Italia, quindi siamo validi da questa considerazione, magari tutti sapete già di cosa parlo faccio una breve premessa per chi di voi non conosce la vicenda, Hacking Team è una delle aziende leader nel mondo nella produzione di Trojan di Stato, cioè quei software che sono usati dalla polizia e dalle agenzie governative per infettare e prendere il controllo dei computer e degli smartphone a fini investigativi di intelligence. Lo scorso 5 luglio l'azienda che ha sede a Milano, l'azienda italiana, ha subito un attacco senza precedenti a seguito di questo attacco informatico, una mole paurosa di dati è stata riversata sulla rete qual è stata la conseguenza? Che dal vedere e conoscere i dati e il patrimonio informativo aziendale effettivamente è stato constatato che i dubbi emersi grazie all'analisi sia del Citizen Media Lab di Toronto che di Privacy International erano fondati circa i rapporti commerciali che l'azienda aveva con stati dove, diciamo così, i diritti umani non erano proprio la cosa più importante. Questa è appunto la premessa, su questo noi abbiamo proposto un intervento ai privacy perché ci siamo chiesti ma allora è chiaro, è evidente, lo vediamo, c'è un dibattito mondiale in corso che cosa sta succedendo in Italia? Non è un tema facile, non è un tema così, non è la cronaca quotidiana eppure interessa tutta la cittadinanza. I giornali ne stanno parlando, ne stanno parlando significa stanno scrivendo articoli, stanno comunque producendo notizie che poi veicolano nei social media e a seguito di questa veicolazione emerge o non emerge un dibattito che non è solamente tecnico-legale ma interessa effettivamente tutti quanto a diritti. Su questa domanda abbiamo pensato vediamo cosa succede sui social media, là dove appunto il dibattito sta scatturendo in Italia e facciamolo partendo da uno scenario big data, ti chiedo di andare avanti con la slide ovviamente l'abbiamo fatto partendo da competenze differenti, io faccio la giornalista, mi occupo anche di innovazione attualmente sono in prestito alla comunicazione istituzionale però sono anche attivista di dati aperti insieme agli amici della Sardegna, sono Sarda, organizziamo da quattro anni il Cagliari Open Data Day in contemporanea con l'International Open Data Day. Credo profondamente nella necessità di difendere il senso vero e proprio della parola privacy e sotto questo aspetto mi interessa moltissimo anche l'Internet delle cose per i profili che sono appunto relativi alla privacy. Di tutt'altra esperienza invece è il mio amico Renato Gabriele. Io mi occupo principalmente di CT ma in questo caso è rilevante l'ambito professionale, in realtà su molti progetti paralleli sul quale opero, il tema privacy, sorveglianza digitale, sicurezza e big data sono un'attività che fanno parte sia della professione ma era potendo avere interesse nell'ambito della tutela, della possibilità di agire democraticamente e liberamente sulla rete quanto fuori dalla rete ho avviato negli anni passati diversi progetti e collaboro con altri progetti. I progetti principali che sono legati e che sono toccati dalle informazioni e dalle dati che vedremo durante la presentazione principalmente sono legati ovviamente ai big data ai sistemi software utilizzati per fare le analisi sui social network, queste non saranno presentazioni su un modello stile social media manager, non guarderemo le impression o le view ma cercheremo di capire dai dati quali sono le cose su cui le persone nel mondo e nei rispettivi singoli paesi e nelle rispettive lingue hanno discusso, approfondito, rilanciato su tutto ciò che riguarda l'argomento privacy perché di fondo Hacking Team, vedremo dai numeri, il leak di Hacking Team ha permesso di far vedere e leggere non solo a chi ne mastica di questo argomento come le persone della InfoSec e i giornalisti specializzati di questi argomenti ma anche le persone normale, giornalista, di quale è l'universo vero che si cela dietro alle relazioni fra chi si occupa del controllo della sicurezza e chi a volte, che questo è il vero motivo che ha dato tanto a enfasi allo scandalo del leak di Hacking Team, in cui queste soluzioni vengono usate da governi non sempre democratici, molto spesso non per niente democratici, non tanto per combattere la criminalità ma per perseguire chi potrebbe nell'arco del tempo portare a una maggiore democrazia o a un cambio di quello che possono essere le condizioni sociali del paese. E quindi diciamo c'è stato un notevole interesse da questo punto di vista. L'osservatorio che il progetto collettivo GIL35, utilizzando i sistemi di analisi che utilizza da moltissimi anni per mostrare fenomeni sui social media e in molti altri ambiti, non solamente sulle privacy, sono stati usati in questo caso per raccogliere alcune informazioni. Mentre noi stiamo parlando stanno continuando a raccogliere data e informazioni. Per quale motivo sono così rilevanti Big Data e le informazioni che vedremo dopo sul cremento di social network? Primo perché ci permette di creare una profondita immagine, quadro, disegno di quello che fanno le persone raggruppate per cluster di professioni, interesse e argomento, piuttosto che per località, geografico, lingua. Cioè per noi in questi ultimi giorni, e non era ovviamente aspettato da parte nostra, Hacking Team è stata avvicinata al tema Egitto, rapporti con l'Italia, il caso Regeni, inchieste parlamentare. In realtà non è questo, parliamo del cold case, non parleremo di Hacking Team, non parleremo di cosa fai e cosa dice la gente. Per quale motivo Big Data di Twitter e dei social, la differenza di Facebook, sono molto rilevanti per fare questa analisi? Prima perché sono pubblici per tutti, quindi chiunque faccia un'analisi può, se ottiene da set che noi stiamo pubblicando e pubblicheremo, fare le stesse analisi e cercare di confrontare, discutere per vedere se le opinioni e le conclusioni raggiunte sono in realtà corrette o meno, cosa che non è possibile fare con social network che non rendono disponibili integralmente, interamente i dati e le informazioni, ma sono parziali. Quindi tutti possono avere eseguità su queste informazioni e quindi si può discutere eventualmente sulle conclusioni di questo argomento. Il secondo aspetto è che mentre voi vi immaginate che i tweet e i Twitter siano solamente quelle 140 lettere che le persone scrivono in un tweet, sì, è sicuramente vero, ma è solamente una piccolissima punta dell'iceberg. In realtà quei dati che avete scritto criptici e in piccolo dietro nel fondo della slide sono solo una parte dei metadati che descrivono questo tweet e che chiunque ha gli strumenti per fare analisi e collegarsi in tempo reale può, in stessi istanti in cui voi twittate sulla rete, in tempo reale ricevere tutte le informazioni di queste metadata. Quindi è possibile avere informazioni su cosa ha detto in questo caso Giovanni Gallus, se è attivato l'Egeo, dov'era fisicamente quando l'ha twittato, in quale paese si trova, dichiara di trovarsi, di quale lingua usa, con quale lingua ha twittato e altre informazioni raggiungibili facendo attività di forensica, sapendo quale è la tipologia di profilo che ha questa persona. Se Giovanni dovesse cancellare questo tweet, chiunque fa attività social media, dalle sue statistiche queste informazioni spariranno. Invece chi raccoglie, come facciamo con il nostro vero osservatorio sulla privacy, e come Gira 35 raccogliamo stream su notevoli quantità di emissioni su qualsiasi argomento, Giovanni potrà cancellare questo tweet, questa informazione rimarrà parte dei big data e ci potrà permettere di continuare a fare analisi del tempo. Questo è molto importante perché è un dettaglio che manca, e sull'argomento privacy vedremo che è molto importante, la dinamicità delle conversazioni cambia nel tempo, muta e quello che oggi ha un lieve interesse, domani può essere un interesse maggiore. Mi anticipo subito che quasi un 15% dei tweet raccolti l'anno scorso durante il leak sono spariti da dataset di Twitter. Oltre 30-40.000 account che hanno tweetato a proposito di questo leak non sono più presenti. E già analizzare di mese in mese gli stessi argomenti ci permette di scoprire che a distanza di quasi un anno c'è ancora interesse, non per questi due giorni, ma in generale sull'argomento dell'e-hacking team, perché sono aumentati dell'oltre 20-30% i retweet e i like a tweet fatti quasi un anno fa. Dicevo prima che rilasceremo i dataset, le grafiche, i dati, le informazioni, i paper e book nei prossimi giorni, solo alla fine della presentazione vi accenderò al motivo per cui non sono in questo momento online e non li potete scaricare in questo momento. I dati che vi presentiamo sono relativi al caso del leak, quindi un'analisi dei tre mesi successivi al leak, un veloce paragone con quello che invece avviene nel 2016, che cosa sei, qual è la percezione sulla privacy dall'inizio dell'anno fino a questo momento e alcune altre piccole informazioni. Gli x-hacking team, erano circa 700.000 tweet nel 2015, in quei 30 giorni. La settimana scorsa, oltre che mensilmente per avere analisi dinamiche su come cambiano le percezioni delle persone sulla rete, sull'argomento, come dicevo prima, sono emersi che quasi 70-80.000 tweet sono spariti. Ci sono circa 20-22.000 utenti, account di Twitter, che non esistono più, che erano bot, fake, account cancellati, utenti che magari avevano tweetato link a siti malevoli, tanto è vero che moltissimi tweet spariti sono tweet che contenevano link. Durante le prime ore, i primi giorni successivi al leak, c'è stata un'attività intensa di bot, che è continuata per tutti i mesi successivi. In modo particolare, utenti hanno linkato a copie fake dei dati rubati da Hacking Team, persone hanno linkato PDF o JavaScript che potevano infettare o danneggiare e di settimana in settimana, man mano che i software di sicurezza identificavano i siti malevoli, tendevano a scomparire sia i tweet che gli utenti, ovviamente in questo caso. Nei dataset che pubblicheremo non sarà presente nessun link precedente ad oggi, quindi sono tutti quanti stati testati precedentemente, quindi il motivo per cui abbiamo aggiornato anche ad oggi i dati era per tutelare l'eventuale tentativa di approfondire questa direzione da parte degli utenti. Quello che è rilevante è che nonostante siano spariti un amore notevole dei tweet, perché le statistiche ci dicono che a distanza di una settimana fino a un massimo di un anno, mediamente il 10% dei tweet spariscono. Anche in un altro caso che ho studiato, che è Black Lives Matter, i fatti di Ferguson, che cubano circa 80-82 milioni di tweet, anche su quelli come tutti, diciamo, i casi in cui vengono archiviati i big data, mediamente c'è un 18% di tweet che nell'arco del tempo, per le dinamiche di cui dicevo prima, tendono a scomparire. È interessante vedere invece che i retweet sono, le impression sono aumentate, i retweet, vedremo dopo con i dati, in realtà sono aumentati, perché nell'arco del tempo sono spariti i tweet con i link malevoli, ma sono aumentati notevolmente i retweet di tweet, che non avevano niente di malvagio. L'altro aspetto rilevante è che solamente una piccola parte delle persone che dialogavano dell'argomento privacy, hacking team e sicurezza, hanno utilizzato gli hashtag. noi facciamo indagini sul linguaggio che usano le persone, non archiviamo solamente per hashtag, e quindi è una cosa che ci ha molto colpito, che le persone hanno discusso e si sono concentrate su centinaia, se non migliaia di aspetti diversi, che sono emerse dalle informazioni che sono pubblicate online. solitamente i link, le url, le foto che si tweetano sono parzialmente una maggioranza, una minoranza, quando le persone dialogano e conversano su Twitter. In questo caso ogni singolo paese, ogni singola comunità si è concentrato su uno dei tanti aspetti. Vedremo temi dedicati alla Spagna, all'Equador, agli Stati Uniti, o ai casi italiani, o tanti altri aspetti. L'altra cosa è che c'è stato un notevole utilizzo delle immagini, ma ovviamente non di foto, ma perché, per poter discutere di cosa è successo in Ecuador, le persone pubblicavano, invece che un link, una screencapto della frase incriminata. E quindi, a differenza di quello che si può immaginare, le persone si sono anche coinvolte a discutere su questi fenomeni utilizzando delle immagini. Ok. Naturalmente, abbiamo già anticipato, la maggior parte delle conversazioni è avvenuto in lingua inglese. Diamo qualche dato per capirci meglio, naturalmente lasciamo le slide da chiunque le volesse poi avere. Cosa registrano i dati? Che appena 35.000 tweet su circa, su quasi 700.000 sono appunto in lingua italiana. 30.000 url su neanche 600.000 tra quelle condivide sono in lingua, sono italiane. Stessa cosa, vediamo anche il rapporto per quanto riguarda le url uniche, 5.000 su 57.000 condivide sono italiane e 332 domini su oltre 7.000. Quello che vogliamo farvi notare è che quindi la maggior parte è in lingua inglese ma anche spagnola. Cosa emerge nell'analisi delle conversazioni? Che nei tweet è apparso ovviamente prima di tutto Wikileaks dove è stata riversata la maggior parte della conversazione e altri siti specializzati in materia di sicurezza come CS Online e CS Online ve lo faccio vedere anche graficamente come vedete la maggior parte è in lingua inglese per oltre il 57% e qui vedete poi nel dettaglio anche i tweet subito dopo come vi abbiamo già anticipato la lingua spagnola per diversi aspetti tra cui appunto quello dell'equator di cui abbiamo già accennato è interessante capire anche che cosa ha mosso per quanto riguarda gli hash la conversazione il più usato in assoluto ovviamente è quello più immediato è King Team è stato usato più di 230.000 volte a seguire questo hashtag bellissimo perché prende in giro quello che è successo è che Team è stato usato 17.000 volte abbiamo vi stiamo segnalando in questa slide che è stato usato oltre 10.000 volte se ne è inno sia la segreteria nazionale che l'intelligence dell'equator e torna la parola del paese appunto è Equator in settima posizione perché questo lo stiamo facendo notare perché è una vicenda che gli è stata molto sentita e è stata testimoniata nei social appunto Equator come hashtag appare 7.000 volte lo facciamo vedere anche graficamente per rendervi meglio conto delle proporzioni Svetta in assoluto Equin Team seguono gli altri vi faccio notare appunto Is Equin Team Wake Yet Wake Yet perché è stato il primo significativo perché da qui è poi partita tutta la conversazione in maniera massiccia perché appunto gli hacker si sono un po' sessati l'hacker che ha pubblicato i primi tweet che tentavano di far capire qualcosa stava succedendo ha utilizzato un hashtag parodia domandandosi se per caso quelli di Hacking Team fossero già svegli questo motivo nell'arco di poche ore ovviamente questo è scomparso dal trend perché probabilmente tutte ci sono concentrate su ben altro per quello che riguarda l'aspetto della lingua spagnola la cosa molto interessante non è solamente la quantità di persone che hanno utilizzato e discusso questa lingua spagnola che ovviamente perché buona parte del mondo parla lingua spagnola a parte noi italiani non c'è molta gente che utilizza lingua italiana e questo si rifletterà anche su altri punti il Sinaina in realtà è legato a uno scandalo perché come vedremo dopo c'è un motivo principale noi ora oggi stiamo riparlando di Hacking Team non noi ma la stampa per le vicende dell'Egitto ma nel Sud America è stato ampiamente utilizzato la sorveglianza digitale non solo di Hacking Team ma dei maggiori produttori mondiali e negli ultimi due o tre anni le elezioni e il cambiamento dei governi delle presidenze sono state notevolmente influenzate da delle attività di azione fatte sulla rete sui social che erano sia di aggressione nei confronti ai giornalisti attivisti o associazioni sinagate e partiti sono addirittura anche cose estremamente ben più grave c'è stato un ampio uso di questi strumenti quindi quelli erano e sono tuttora non solo come noi diciamo nell'ultimo mese mese e mezzo molto punti sul vivo su questi temi quasi la maggior parte dei paesi dell'America hanno vissuto in ogni passaggio e cambio delle presidenze casi drammatici o di persecuzioni o di utilizzo di strumenti informatici per pervadere e manipolare la percezione delle discussioni e delle personalità a favore di un partito o di una presidenza questo è il motivo principale mentre invece il resto del mondo a parte pochi paesi come l'Italia ha usato comunque l'inglese quindi tutto il nord d'Europa come vedremo dopo grazie alla forense che sono meditati ci dice che a parte noi gli altri paesi del nord d'Europa compreso Germania Francia e altri hanno usato comunque la lingua inglese per parlare dell'argomento il paradosso che a noi ci ha colpito è stato il primo che nonostante sia un caso italiano e insieme ad Expo 2015 dal punto di vista dei social network sono stati due eventi mondiali di rilevanza per il nostro paese gli italiani non hanno partecipato a livello collettivo sulla rete a questa discussione sono rarissimi i casi e questo si è riflesso anche sul livello della discussione che solitamente rivesta solamente gli specialisti di infosecurity di persone che si occupano di leggi di vertenze legali e di difese di eventuali accusati questo è particolarmente rilevante le conversazioni hanno avuto un notevole incidenza nelle prime settimane il grafico che voi vedete ci descrive quanto le persone hanno discusso intorno ai temi legati dalle mail pubblicate nell'arco del tempo a differenza di quello che potete ritenere la quantità di questi grafici che sembrano abbastanza basse in realtà sono numeri notevolmente alti una società italiana o un blogger italiano potesse fare tutti i giorni queste quantità di conversazioni su se stesso saperebbe lo champagne quindi facciamoci influenzare c'è stata una conversazione costante continua che copriva tutti i fusi orari nel grafico successivo invece che le quantità per giorno vediamo le quantità per ora vedremo che la discussione sull'argomento sono durate numerose settimane a prescindere dal fuso orario in cui le persone stavano comunicando perché ovviamente in Europa ne parlavamo di giorno negli Stati Uniti o in Cina se ne parlavano in orari in cui in Europa ovviamente si faceva tutt'altro da questo punto di vista a cavallo della conferenza di Privacy Day che si è tenuta in ottobre in cui avevamo già presentato alcuni di questi dati c'è stato un revival delle conversazioni perché altre prime news erano uscite sulle vicende di Hacking Team da questo punto di vista questi sono numeri significativi da questo punto di vista dal punto di vista invece dell'analisi della forensica grazie ai metadati di cui dicevo prima ci è interessato andare a vedere qual era l'ubicazione in termini di fuso orario di queste persone perché molto spesso le persone utilizzano strumenti twitter impostati volutamente con una città diversa come il progetto Itagovedis dice la maggior parte dei nostri parlamentari senatori dichiara nel profilo account twitter di essere della Groenlandia o di Atene e non dell'Italia quindi per cercare di mitigare l'associazione tra orario località geografica e posizione sul territorio mentre loro comunicano socialmente quello che stanno facendo quindi abbiamo utilizzato una serie di informazioni che sono con tutti i metadati che vanno dal fuso orario del device la località e la lingua e la zona di orario dell'utente a livello di profilo e l'eventuale dichiarazione di località geografica in cui si trova in quel momento o nel suo profilo perché spesso le persone possono essere in un luogo diverso da quelle che dichiarano nell'account distribuendole sui fusi orari quindi qui immaginatevi la mappa del mondo ovviamente la buona parte di discussione è stata suddivisa sul continente italiano e americano italiano europeo e Africa ovviamente i paesi arabi e i paesi asiatici non sono presenti in questi grafici perché le persone o non hanno accesso a internet o non discutono di questi argomenti su internet perché sono tra le vittime di questi strumenti di questi argomenti quindi per non attirare i software di sorveglianza digitale o per non essere target da parte delle organizzazioni non comunicano quindi quando nei giorni scorsi avete sentito i nostri colleghi dirvi che è importante che noi anche se siamo nell'occidente non perché siamo i paesi più ricchi o i paesi più avanzati di potenza tecnologica dobbiamo parlare anche a nome di chi non può parlare è perché nell'ambito delle libertà democratiche ci sono delle persone anche in paesi vicini a noi che hanno molti timore a retuitare o comunicare o conversare su questi temi è questo che molto spesso noi indichiamo come maggiore motivazione per parlare anche per conto loro perché non hanno la possibilità di farlo ovviamente in Europa non ne parlavamo noi come diciamo prima su 700.000 nemmeno 40.000 erano in lingua italiana da questo punto di vista quindi erano altri che ne parlavano questi sono alcuni raggruppamenti che ci danno indicazioni geografiche e ci fanno notare quanto i paesi qui purtroppo per i motivi di prima mancano i paesi asiatici e del Far East ma ci sono qui in Sud America perché la maggior parte dei paesi hanno avuto notevoli problemi su questo fronte recentemente prima del caso Egitto e prima dei Panama Papers Lika ci sono stati numerosi processi che stanno finendo sulla stampa anche occidentale in cui è emerso che gruppi di hacker sono stati ingaggiati dai principali partiti politici attualmente al potere in molti di questi paesi e che hanno utilizzato il software di sua variante digitale contro gli altri partiti e contro le personalità per fare in modo che fosse molto più difficoltoso svolgere un'attività democratica di rappresentanza e quindi fare un contrasto e raggiungere il potere pochi giorni fa è uscito su alcuni giornali occidentali che alcuni di questi hacker stanno per essere estradati negli Stati Uniti poiché ascoltati dalle autorità internazionali è emerso che siano stati ingaggiati abbiano agito in numerosi paesi Sud America di anno in anno per manipolare le conversazioni su internet per seguire minacciare giornalisti attivisti i cittadini e sindacati per fare in modo che il timore di finire nel mirino e molte hanno avuto conseguenze ben gravi come avrete notato dalla stampa in molti di questi paesi riducessero le loro attività dell'agire libero democratico e quindi moltissimi di questi paesi sono stati coinvolti dall'argomento anche in team a differenza del nostro caso in cui il massimo è stato un fatto di cronaca la maggior parte delle conversazioni è quella che è generata dagli oltre 38.000 dibattiti di Wikileaks subito dopo c'è Twitter 28.000 e oltre dibattiti The Intercept Mother Mother e voglio precisare che in inglese ci sono ovviamente diverse testate e compare anche The Guardian magari però meno rispetto a quanto ci si aspettasse da un giornale che in generale è sempre molto presente su questi temi The Register e altri per quanto riguarda quelli spagnoli vi segnalo questi due perché sono tutte e due gringhe e equadoregno e ha trattato molto il dibattito creato attorno alla vicenda Hiking Team perché abbiamo detto quanto è sentito nel paese graficamente ve lo rendiamo in questo modo abbiamo appunto svetta è decisamente maggiore il quantitativo di conversazioni generate a Wikileaks e poi vediamo le altre voglio farvi vedere però in maniera particolare quello che è successo in Italia questo grafico vi mostra come si sono posizionati qual è appunto il caso dei top domini in Italia vedete che in cima c'è il quotidiano la stampa seguito dal fatto quotidiano Repubblica l'Espresso ANSA accanto avete i numeri vicino alla grafica Wally Corriere Esco.it poi c'è il sito di un hacker che è molto conosciuto e anche un fan club e poi il disinformatico di Paolo Attivissimo quindi questi sono i siti dove le conversazioni dove si è parlato di hacking team in Italia e le cui conversazioni hanno comunque generato un po' di rumore sui social una sola precisazione su questa cosa per conversazioni noi intendiamo persone che parlano discutono di un argomento il secondo paradosso della conversazione nel sentire questi argomenti in lingua italiana rispetto al resto del mondo è che mentre in quegli altri 650.000 twitter le persone discutevano a secondo della loro classe di appartenenza cittadini politici giornalisti informatici e quant'altro dai siti di riferimento e quindi era veramente una conversazione di rete in cui le persone che hanno interessi o professionalità comune discutevano approfondivano uno dei temi in Italia capita ed è capitato il contrario come probabilmente tutti voi vedete tutti i giorni in Italia la comunicazione sui social network è di tipo mainstream è di tipo top down quasi sempre nei trend topic ci finiscono trasmissioni televisive e quindi la maggior parte delle conversazioni sul argomento privacy in Italia passa attraverso persone che discutono inattabilmente su articoli dei giornali e dei principali quotidiani nazionali non da altre fonti altro genere ecco comunque già i numeri appunto ci dicono che le conversazioni sono molto basse rispetto appunto a quello che succede guardando non so Masterchef o un'altra trasmissione sì c'è 35.000 tweet sull'argomento anche in team in Italia non è niente c'è una serata di amici fa 700.000 tweet questo per darvi un'idea quindi una delle preoccupazioni che abbiamo riportato nella comunità a dei privacy alle comunità di hack meeting che abbiamo incontrato nei mesi precedenti è nel fatto che l'argomento privacy a differenza di quello che noi riteniamo o percepiamo perché tutti discutono delle notizie che ci sono a telegiornale o degli articoli prima copertina nei giornali abbiamo la sensazione che tutti ne stiamo parlando discutendo è la classica sensazione della metropolitana o dell'autobus o della gente che parla al bar in realtà non è affatto vero la quantità di tweet o di persone che discutono normalmente il segmento privacy in lingua italiana è veramente basso in confronto a paesi che hanno un decimo della popolazione che abbiamo noi da questo punto di vista e questo per noi è molto importante perché molto spesso noi ci ritroviamo per approfondire questi temi e quindi parlando tra di noi come avviene per le singole persone sui social network che chiusi una bolla ci fanno credere che tutti hanno gli stessi interessi che abbiamo noi e che tutti stanno parlando di quello che a noi interessa parlare la realtà dei numeri purtroppo è molto fredda e ci dice che è esattamente l'incontrario parlare di privacy è praticamente inesistente nelle conversazioni e dialoghi in rete la quantità di blog e siti specializzati e materiali che trattano questi argomenti è quasi irrelevante rispetto alla quantità della stessa tipologia di contenuti e di informazioni che si possono trovare in moltissimi altri paesi in moltissime altre lingue e questo è un segnale che abbiamo dato negli altri incontri a chi come noi si occupa di questo tema perché sicuramente evidenzia che l'argomento privacy è un argomento assolutamente difficile perché siamo convinti che grazie alla legge sui cookies qualche d'uno tutela nostra privacy che è una fesseria colossale tutti quanti riteniamo che esiste la privacy perché ogni volta che riceviamo una lettera c'è scritto che abbiamo messo una X e c'è qualche d'uno che tutela nostra privacy invece queste norme stavano solamente ad impedire che chi ha e gestisce queste informazioni possa facilmente finire in sede di giudizio civile o penale perché qualcuno pensa ci sia stato un problema invece la percezione è quella che la privacy venga seguita e rispettata quindi se ne parla molto poco e purtroppo non siamo convinti che sia in questi termini se ne parla molto poco in maniera insufficiente probabilmente dobbiamo dire che abbiamo anche una responsabilità in questo senso noi giornalisti cioè va anche magari trovata la maniera di informare meglio il cittadino a questo proposito i dati la fragezza dei dati comunque ci fanno fare alcune considerazioni e cercare di capire chi si è impegnato di più tra i quotidiani nazionali abbiamo riportato una sintesi delle posizioni tra i top domini compaiono abbiamo getto la stampa espressa alla Repubblica che risulta 79esima la stampa è stata la più brava la 55esima mi sembra a livello dei domini mondiali ovviamente sul mondo qui il numero 55 mi confermi il fatto quotidiano è arrivato all'85esimo posto poi seguono War Itale e Anza una piccola nota come dicevo prima i numeri sono bassissimi cioè ecco il problema che ci capita sempre quando vediamo e consultiamo i big data che vediamo il grafico ci dicono ah sono stato il primo il quarto il quinto stiamo parlando di centinaia di tweet su 700.000 quindi queste sono distinzioni che abbiamo dovuto per forza fare perché altrimenti si sarebbe completamente perso la discussione che è avvenuta sulla rete in lingua italiana poiché grazie ai numeri scendavamo in graduatoria quindi sì attivissimo al 10% ma stiamo parlando di una manciata di tweet irrelevante qualunque fotografia tweetata ne colleziona ben molte di più da questo punto di vista ecco appunto abbiamo voluto riportare anche un po' i numeri che hanno fatto i blog appunto Paolo Tivissimo con questa posizione con questa precisazione che ha già fatto Renato il blog di Matteo Flora il blog di Fabio Chiusi che si occupa se vuoi in via di questi temi ed è qui con noi al festival il deputato Stefano Quintarelli appare anche sul sito di Pepe Grillo e sul forum del partito pirata queste le posizioni abbiamo qua esploso vado velocemente sì vai tu velocemente su questi queste sono una piccola parte dei dati ci sono tutti e ci saranno tutti pubblicati online questo ci serve per mostrare semplicemente che le persone si sono equalizzate su una rete di cluster c'è chi discuteva del codice chi degli articoli su giornale chi erano attivisti chi erano dei quotidiani siti con file sorgenti utility siti di videogiochi persone che si dilettano di altro e anche un sacco di siti porno una delle cose che viene sistematicamente utilizzata per silenziare le conversazioni e aggredire le conversazioni con bot che diluiscono è un termine tecnico le conversazioni rendendo impossibile parteciparvi oppure lo fanno per allontanare chi vuole partecipare a quelle conversazioni e quindi come vedremo alla fine uno dei più grossi problemi delle conversazioni sul tema King Leaks sulla privacy che abbiamo rilevato è che ci sono alcuni account di siti porno che bombardano con decine centinaia di migliaia di tweet e di link le conversazioni per diluire o silenziare le persone che vogliono partecipare perché io seguo lo stream come seguo Sanremo e se comincio a vedere lotti di tweet che parlano di siti porno smettono seguo l'argomento e magari in quel frangente in quel paese stava avvenendo un'elezione politica e quell'approccio di utilizzo delle political botnet fa sì che gli altri paesi non riescono a percepire cosa sta succedendo e magari lo scopriamo oggi per i Panama Leakers mentre invece se avessimo potuto seguire correttamente quei temi che avvenivano in quei paesi circa un anno fa avremmo scoperto che sono dei paesi che hanno avuto grosse difficoltà hanno avuto cambi drastici di partiti che erano al potere perché venivano utilizzati anche strumenti di questo genere gente che condivideva documenti di Word cioè è interessantissima questa cosa decine di migliaia di persone hanno analizzato questi dati li hanno discussi ricreando fogli elettronici documenti sorgenti tentando di approfondire o raccontare o svelare un dettaglio che era importante per lui loro quel paese quella lingua quel momento o in quel frangente il primo link più condiviso in assoluto in tutta questa discussione è un link in lingua spagnola e parla proprio del caso legato alle vicende dei paesi intorno all'Equador perché in Ecuador è molto difficoltoso discutere di questo argomento perché le persone erano vittime del software di Hacking Team e lì veniva fuori e c'erano le fatture i corsi le comunicazioni le conversazioni tra Hacking Team e i loro clienti e i loro partner su quell'argomento e molte altre informazioni di altro genere i più vari da questo punto di vista dal punto di vista italiano invece a parte qualche raro caso i principali siti o conversazioni che si sono legate a un archivio o un sito o un link perché sono solamente tweet legati ad articoli documenti e informazioni da questi numeri sono già stati tolti tutte le conversazioni prive di significato che non erano collegate a nessun aspetto specifico di un caso da questo punto di vista e sono quasi sempre comunicazioni mainstream cioè legate a un articolo che è uscito su quel giornale quando vedrete i grafici per singolo paese per singola lingua vedrete che anche in Italia quelle poche conversazioni sono venute quasi sempre quando uscivano gli articoli di Carlo Laffradiani che vedo in sala perché è stata la giornalista che toccando spesso questi argomenti ha focalizzato ha portato le persone a discutere di quegli argomenti su quei links e guarda caso e tutti avvenivano unicamente nel momento in cui usciva un articolo sul giornale perché magari qualcuno come i suoi colleghi riprendeva l'argomento poi ti facciamo vedere anche graficamente e qui ci sono un po' di link su questo sì questi sono ecco questi sono i link graficamente possiamo anche far vedere direttamente la grafica è la stessa però la resa maniera grafica allora che cosa appare appare che l'articolo di Massimo Russo i segreti di di Vince l'uomo che aiutava le spie è quello che appare di più nella diciamo nella classifica di questi primi dieci articoli della stampa dobbiamo dire anche la verità è quello che ha avuto maggior peso però in realtà chi si è impegnato di più dei colleghi della stampa è stata appunto Carla Frediani che laggiù ne ha parlato più volte questi articoli e di conseguenza una serie di altre conversazioni derivano appunto dal suo contributo ci sono anche altri colleghi altri articoli che qui non appaiono però già questa questa grafica ci dice questo vorrei aggiungere qualcosa Carola sarà contenta ma questa slide non è perché così dopo lei ci deve offrire la cena questa slide io non sono giornalista lei giornalista per me questa slide è drammatica cioè non solo nessuno parla di privacy in Italia nessuno discute nel tempo perché un conto è il tweet estemporaneo nessuno parla più di Sanremo però ci sono stati 2.700.000 tweets su Sanremo durante quei 5 giorni invece sull'argomento della privacy che ci appartiene tutti i giorni e sulla possibilità di poter agire democraticamente in rete quanto nella società civile è di fondamentale importanza e per me diciamo questa non è una slide per vincere una pizza ma una slide in cui si tentava invece di dire che l'argomento è abbastanza drammatico e siamo tra l'altro il paese in cui lavorava King Team in cui i media avrebbero potuto pubblicare articoli in lingua inglese che non lo hanno fatto non c'è stato un blogger mi perdoni se qualcuno ci ha provato ma purtroppo dai numeri il risultato è tale per cui se ho anche l'ho fatto è stato completamente irrelevante purtroppo il suo sforzo non ci sono state conversazioni internazionali ci sono stati numerosi attivisti e personalità del mondo dei diritti civili americani che hanno chiesto aiuto agli italiani perché tutte le email pubblicate erano in lingua italiana e ci chiedevano una mano per capire che cosa c'era scritto perché la traduzione anche se usate Google Translate non fa percepire la gravità di un messaggio e lo vedremo dopo a questo punto perso una grandissima occasione questo non è un premio alla stampa cioè semmai è che nel poco che nessuno ne ha parlato alcuni giornali hanno avuto un certo risalto ma la cosa grave è che nessuno ne ha parlato avrebbero potuto avere milioni di visite online se avessero pubblicato questi articoli in modalità bilingue guadagnando anche quella pubblicità volendo avrebbero potuto sfruttare questa occasione come con Expo 2015 per sperare di avere dirette televisive giornaliere per raccontare gli stati di avanzamento sugli scoop sull'argomento tutto ciò non è avvenuto e penso che forse solamente io e Claudio Guarnieri abbiamo risposto a Sogoyan mi perdonerà se pronuncio male il suo cognome perché in una delle mail pubblicate alcuni dipendenti di H&M noi che siamo italiani possiamo percepire che non era una volontà di ingaggiare un killer usando il dark web e nei forum per ucciderlo però se utilizzava Google Translate delle mail in quelle mail c'era un dipendente di H&M che con i colleghi diceva certo che scatole questi che ci parlano sempre dietro scoppiano scandali perché ci sono persone perseguitate dal nostro software avrei voglia di ingaggiare un killer dalle darknet per poterlo far fuori lui ha chiesto pubblicamente se l'avrebbe aiutato qualche italiano per verificare quanto fosse realmente concreta quella minaccia letta da una traduzione quanto poteva essere scherzosa per fortuna era una mail stupida come raramente si deve fare come contropartita del milione di mail emerse pubblicate online purtroppo non ne abbiamo trovata una in cui si è emersa una parola a differenza di tutte le altre contro chi invece ha lavorato in questi anni scoprendo che giornalisti e cittadini sono stati perseguitati tramite l'utilizzo dei loro prodotti non si è vista una mail in cui uno dicesse che peccato che quel cliente ha utilizzato il nostro software per perseguire e fare anche azioni molto più gravi quelle persone innocenti nemmeno di criminali questo è il contraltare nel senso un centinaio di migliaia di mail in cui si tentava di contrastare le attività di citizen lab e di molte associazioni in giro per il mondo che da anni aiutano le persone i blog i giornalisti perseguitati nel terzo mondo nei paesi arabi e in Asia e mai una mail in cui comprovato che era stato usato il loro prodotto dicessero certo che potremmo fare qualche cosa per evitare che succeda ecco questa è una cosa che volevamo evidenziare perché ha sicuramente una rilevanza però ovviamente precisiamo che il grafico se vuoi rimettere un attimo ci serve anche per far capire questo dobbiamo anche riconoscere che c'è stato chi ha cercato di parlare di questa vicenda che va a toccare la libertà dei singoli la libertà di informazione dei diritti dei singoli qui è una tematica che è una portata assolutamente mondiale purtroppo poi non c'è stato un effetto contagio forte tra le altre media cioè cosa è successo è successo che alla fine noi lo sappiamo bene perché la notizia non è come un altro prodotto a un certo punto il prodotto nasce si sviluppa e poi muore quindi chiuso il ciclo della notizia ovviamente scema totalmente l'interesse ed esce dalle pagine dei giornali o dalle pagine web comunque questa situazione alla stampa è indicativa perché riconosce che per quanto poi le conversazioni generate sono state assolutamente insufficienti per creare un dibattito mediatico che riguardasse tutto il paese signori stiamo parlando di un'azienda che ha sede a Milano cioè è un'azienda che è italiana rendiamocene conto non se ne è parlato sufficiente la stampa ha avuto il merito di fare questo comunque di provarci e cercare generare anche delle conversazioni social noi l'abbiamo riconosciuto graficamente nella consapevolezza che nulla rispetto a quello che succede come ho detto con la media di italiani che vanno a conversare su un qualsiasi programma televisivo della serata senza arrivare all'apice della Moli Datti che si riversano quando c'è Sanremo noi siamo partiti insieme da questa domanda appunto che ci ha portato a presentare questo studio innanzitutto ai presidi che era un contesto molto fertile in cui parlare di questi dati questo poco importa cioè questa è la constatazione triste non c'è la volontà io ho pregato personalmente alcuni colleghi di scrivere di parlare nelle tv non c'è magari la volontà di fermarsi un attimo approfondire aspetti che sembrano ostici in quanto riguardano informatica riguardano materia che magari non tutti i colleghi masticano tutti i giorni però non c'è stato sufficientemente interesse alla conseguenza di questo fatto cioè è vero che si tratta di un fatto informatico ma le conseguenze riguardano la vita di ognuno di noi io in realtà facendo questa cosa con Renato lancio un appello soprattutto ai colleghi più giovani vedo quelli che come me si stavano per terra alle conferenze stampa ai convegni io chiedo a loro di scriverne chiedo a loro di provare a spiegare alla nonna di che cosa stiamo parlando perché è importante parlarne perché è importante che i cittadini siano consapevoli di questi temi e siano informati quindi l'obiettivo vero per cui noi siamo qui al festival internazionale di giornalismo è presentare quello che è da avere successo per farvi capire che non basta bisogna impegnarsi di più innanzitutto le persone per cui questo festival esiste i giornalisti cerchiamo ora in questi pochissimi minuti perciò spazio qualche domanda di trarre non delle conclusioni ma rivedere alcune di queste argomentazioni su quello che sarà il nostro prossimo futuro che è molto menoroso e molto più simile a Sud America rispetto a quello che noi possiamo immaginare da quello che leggiamo sentiamo discutiamo il fatto che Wikileaks sia il primo dominio su questo argomento non è relativo al fatto che abbia trattato questo tema ma semplicemente perché avendo pubblicato un milione di mail milioni di persone hanno discusso di singole mail di singoli fatti e quindi troverete una varietà una classifica di argomenti e fatti quando li vedrete online nel quale troverete molte delle cose che abbiamo citato dalle più variate sono nate saghe sui social network scollegate da team sul tema perché è emerso che comunque questi prodotti non sempre funzionano quindi addirittura le forze di pulizia spesso devono comprare il doppio delle licenze necessarie perché solamente il 50 o 60% dei casi in cui tentano veramente di acquisire un target con questo strumento poi questo strumento funzionava e questo è emerso nello hearing quando il senato americano ha invitato tutte le agenzie americane a dare spiegazioni informazioni sull'eventuale utilizzo fatto o non fatto di eventuali prodotti dell'hacking team a seguito dell'XA e quindi tra le varie informazioni che è emerso è che questi prodotti in generale non sono poi sempre così efficaci per fortuna e il secondo aspetto è che ovviamente essendo associati ai software capita che si fanno demo in cui il prodotto che non funziona sembra funzionare e qui è nata una saga molto divertente di meme è nata dal nome Your Boy Serge che è il nome di una persona che lavora in hacking team perché in molte mail si vedono scambi in cui mentre l'informatico tentava di nascondere il fatto che non funzionasse una mazza durante la demo e c'erano le forze di polizia che stavano cercando di capire se il prodotto poteva essere confacente ai loro bisogni c'era Serge che cercava di distrarre le persone per non far vedere che gli antivirus trovavano lo spyware e quant'altro quindi per fortuna le mail ci permettono di anche toccare molti altri aspetti oltre quelli importanti il motivo per cui durante le presentazioni vi accennavo il fatto che il tema è rilevantissimo notevolmente più rilevante rispetto alla nullità con la quale viene affrontato e che in questi giorni abbiamo sentito parlare molti persone o personalità sull'argomento sorvegliante digitale libertà persecuzione blogger possibilità della stampa lo hanno fatto giornalisti tedeschi della Germania giornalisti tedeschi per parlare di questi argomenti sono stati perseguitati dalla giustizia una giornalista italiana Stefania Maurizzi che lavora per l'Espresso e che credo sia un'autrice di moltissimi articoli sull'argomento di Wikileaks compare in quelle mail perché sembrerebbe nelle comunicazioni del CEO di Hacking Team che si siano tenuti degli appuntamenti incontri presso Mise il Ministero per lo Sviluppo italiano in cui si chiedeva si è discusso del fatto di come fare per far sì che anche i giornalisti italiani la smettessero di parlare di quello che si diceva nelle stampe estere sul fatto che il loro prodotto veniva utilizzato e dava un'immagine negativa della società che in team e quant'altro uno dei fenomeni che gli utenti normali della rete non percepiscono è che oggi l'informatica è svoluta le persone non vengono solamente sorvegliate attraverso questi strumenti ma vengono sorvegliate quando discutono l'utilizzo dei social network interferiscono le conversazioni come dicevo prima o con botnet specifiche che tentano di dissuadere le persone oppure con verere e reale aggressione moltissime università hanno prodotto in questi ultimi tre anni delle ricerche università con cui siamo collegati che facevano questa analisi da qui l'osservatorio sulla privacy sulle politiche il bot per il fatto che gli strumenti di sorveglianza digitale vengono utilizzati da chi svolge l'attività di black operation che è un termine tecnico gruppi di persone che cercano di influenzare i comportamenti le percezioni degli argomenti su un singolo paese o su un singolo argomento su un'azienda o su una persona diluendola inquinando le conversazioni aggredendole quindi spingendo l'internet che odia cioè quelle persone che come al bar tendono molto facilmente aggredire gli altri perché viene pubblicato un meme con una parolaccia con una faccia brutta che purtroppo è un fenomeno molto diffuso nell'ambito di social network molto spesso in questi paesi ha portato anche azioni in cui giornalisti magistrati anche forze di polizia oppure cittadini che non hanno potuto partecipare alla libertà democratica o hanno perso la vita semplicemente perché si stavano occupando di argomenti che non avrebbero dovuto occuparsi il caso più noto è la pegna bot in Messico che ha aggredito per anni in modo sistematico tutte le persone dell'opposizione giornalisti e magistrate dicevo prima i casi di alcune attività di black hop in sud America ma sono cose che stanno avvenendo anche nell'Europa vicino a noi una delle ultime botnet di political bot che sta tentando di spaventare dissuadere i cittadini a parlare di certe cose in social network è la Turchia la settimana scorsa c'è stata un'aggressione violenta nei confronti di Twitter che da un lato mirava a far capire al popolo turco che c'è un notevole controllo di quello che sono le conversazioni su Twitter che si dica che è solo pochissime volte successo che Twitter abbia fornito dei dati come vedevamo prima dai metadati è possibile capire cosa e chi parla o discute lo volevo citare come esempio perché è anche vicino a noi questa cosa capita e anche noi in Italia c'è capitato di segnalare political bot di questo genere e aver subito per settimane aggressioni di ogni genere semplicemente perché c'è chi ha interesse a far sì che si discuta di qualcosa e non di altro c'è un intreccio non stretto quasi letale tra l'utilizzo degli strumenti di sollevianza digitale e le attività che vengono svolte dai political botnet chi è oggetto di questi strumenti è oggetto di entrambi gli strumenti e chi si è mostrativo in ambiti di diritti civili in paesi meno democratici diventa interamente vittima in pochissimo tempo anche di strumenti di sollevianza digitale i casi citati dai nostri colleghi in questi tre giorni sono la punta dell'iceberg sicuramente se quello fosse lo 0,001% c'è un 99,99% di persone che stanno facendo il loro lavoro come giornalisti sindacalisti magistrati o persone normali in società civile che non lo sanno ma il loro account e probabilmente il loro computer il loro telefonino è sotto controllo da parte di qualcuno che utilizza questo genere di strumenti i casi che sono stati citati in questi giorni sono dei casi fortunati in cui qualcuno è riuscito a far arrivare gli strumenti o la vittima perché era ancora viva o chi invece purtroppo ha perso la vita nel svolgere la sua professione ha potuto far arrivare i loro strumenti digitali e informatici all'associazione che si occupano di questo e poter discutere di questi casi come ha fatto ieri Claudio Guarnieri su questo fronte è un'intreccia notevole e in questo momento anche nelle comunità di chi si occupa di questi argomenti purtroppo non abbiamo questa percezione chi si occupa di privacy ha un cluster di relazioni chi si occupa di infosec ha un altro cluster di relazioni e in questo momento chi si occupa di political bot deve per forza interagire con organizzazioni e università di ricerca straniere perché in Italia questa è una problematica non percepita non ancora ben evidente da tutti quanti ultima cosa che c'erano le domande ricordiamo di fare molta attenzione a chiunque faccia attività di informazione giornalismo indagine opera come onlus nei paesi del terzo mondo dove ci sono difficoltà interagire in modo libero perché non è necessario utilizzare il software come hacking team per poter essere attracciati su social network i metadati che si trovano all'interno del twitter possono dare informazione per cui non è necessario l'NSA fino a pochissimo tempo fa la maggior parte degli strumenti che venivano utilizzati non il client relativi di twitter ma le miri di applicazioni che si interagivano con twitter ad esempio utilizzavano tramite le app di twitter non il link alla propria immagine di profilo ogni volta che twittavano accedevano a twitter in cui compariva la loro immagine quella immagine arrivava in chiaro non arrivava in HTTPS quindi chiunque era in grado di monitorare il traffico della rete e la maggior parte dei paesi molti soggetti sono in grado di controllare il traffico di ISP erano perfettamente in grado di poter identificare chi fossero e dove fossero le persone che stavano comunicando quindi Snowden non sta utilizzando twitter perché è sicuramente uno strumento sicuro per chiunque è estremamente pericoloso se si rientra in quelle categorie anche l'utilizzo di un normale device che si ritiene sicuro se non si ha una padronanza del significato degli strumenti e dei device che stanno utilizzando no solo per chiudere perché ormai siamo veramente a corti tempo tutto questo per dire che è necessario affrontare gli argomenti in maniera più sistemica cioè serve parlarne e unire differenti competenze cioè serve come ha detto anche Claudio Guarnieri l'ha detto qui l'ha detto anche i privacy un approccio sistemico che ancora manca in Italia che invece esiste in altri paesi grazie per l'attenzione so che l'argomento è caldo quindi se anche chiuderanno il collegamento abbiamo qualche minuto anche oltre alle sei perché nessuno deve parlare credo dopo di nuovo Ivekna dimmelo cinque minuti ah ottimo sono spaventatissimi non lo sono a chiedere aspetta aspetta il microfono perché siamo ancora in collegamento quindi sentono anche condivido solo l'esperienza curiosa che stando a Milano essendo conoscenti del Giro Sogoyen e dintorni c'è stata una transumanza di giornalisti esteri quello del New York Times e quello del Foreign Policy Magazine e quello del Washington Post che arrivavano oh che ci vediamo per parlare di Hacking Team che andavano a fare l'incontro con PR e Media Relationship di Hacking Team e poi visto che venivano a Milano chiedevano ai loro corrispondenti americani con chi posso parlare a Milano per avere altri pareri c'è stata una transumanza per alcuni mesi che veramente non ho mai parlato con così tanti giornalisti stranieri in Italia è vero è vero grazie dal punto di vista paradossale dei media è stata una occasione in mano e persa avrebbero potuto fare decine di milioni di visualizzazioni al giorno semplicemente traducendo in inglese qualche mail o scrivendo qualche cosa in altre lingue da questo punto di vista probabilmente il motivo per cui ad esempio nelle case di mail mi dà là per dire questa cosa viene citata la Maurizio e il Mise è probabilmente perché lei è una delle poche credo mi perdonino gli altri giornalisti che ogni tanto pubblica articoli anche in lingua inglese e quindi sicuramente per giornalisti stranieri su questo argomento specifico non hanno praticamente mai trovato una sponda e quindi passavano per il centro e conoscendoci ci cercavano sul cellulare su twitter dicendo possiamo fare due chiacchiere per capire qualcosa di più cioè questi chiedevano su internet se qualcuno c'è batte un colpo ci sono altre due domande la mia prevalentemente forse è una curiosità all'interno degli argomenti che sono stati sviluppati su questa questione a questo punto soprattutto in lingua inglese è venuto fuori da qualche parte in maniera diciamo significativa l'argomento del il fatto che questo tipo di strumenti sono totalmente demandati a soggetti privati che vengono poi usati dagli stati sostanzialmente no questo è un tema che è completamente da quello che ho potuto analizzare perché in realtà è da oltre un anno che i sistemi fanno analisi su moltissimi aspetti quindi non è una cosa preparata la settimana scorsa per Perugia no ma anche perché nella maggior parte dei mondi e nella maggior parte dei paesi nel mondo il livello di discussione è notevolmente diverso da quello che abbiamo noi cioè molto spesso noi leggendo anche i giornali vediamo delle contrapesazioni sull'argomento pubblico e privato su chi ha titolo o diritto di affrontare quel problema quegli strumenti quel software oppure il caso famoso Carrai sulla cyber sicurezza o di Renzi all'estero questo argomento non si tocca perché all'estero una cosa che è da fare si fa non perché è giusto o sbagliato nel senso non è rilevante se sia pubblico o privato perché poi in ogni paese esiste una realtà sociale politica economica diversa per cui in alcuni paesi è di competenza pubblica o di competenza privata c'è sicuramente un aspetto puramente tecnico però sono prodotti talmente all'avanguardia che tendono a morire nell'arco di 3, 4, 8 o 24 ore quindi le società o le persone che possono produrre strumenti di questo genere lasciandoli funzionali per il loro cliente finale richiedono un'attività uno sviluppo di ricerca notevole e normalmente gli enti pubblici anche in paesi in cui il pubblico è privato è quasi la stessa cosa hanno forte difficoltà a seguire questo ritmo esempio tipico di Zero Day uno degli argomenti di cui nessuno credo abbia parlato in questi ultimi giorni è che tutti questi prodotti per funzionare hanno bisogno di sfruttare un bug che permetta di iniettare del software malevolo e ci sono persone che passano la loro vita come mestiere a cercare in giro per il mondo Zero Day da poi rivendere dalla società come Hacking Team per essere usate questo è uno dei motivi principali per cui tecnicamente è difficile le stesse società in realtà producono software molto spesso che funzionano molto male perché basta un giorno un mese o sei mesi per cui il prodotto diventa completamente inutilizzabile non perché sia fatto male o sbagliato perché la complessità di questi strumenti richiedono un aggiornamento al secondo millisecondo la seconda domanda hanno esaurito con le precedenti io volevo proporre un applauso a Carola Prediani va bene grazie ancora a tutti grazie a tutti grazie a tutti